www.etgmarken.it La notizia la trovate anche sul nostro sito internet tvmarche.it che è stata avvertita distintamente in tutte le marche. Il sisma epicentro nell'Ascolano è stato avvertito anche in altri comuni fino ad Ancona. La nuova scossa si è verificata alle 17.55 ed è stata di magnitudo 4.4 secondo rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ad Arquata del Tronto grande preoccupazione tra sfollati e soccorritori. Il sisma è stato come dicevamo distintamente percepito da Ascoli a Fermo fino ad Ancona e Macerata. Varie persone si sono accorte che la terra stava tremando mentre camminavano per strada. I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di telefonate e sono in corso verifiche per accertare se vi siano stati dei danni. E prima una notte sostanzialmente tranquilla, prima di questa ultima scossa. Ce ne sono state diverse nel corso della giornata ma la notte era stata sostanzialmente tranquilla per i circa 2.500 sfollati del terremoto di Marche e Lazio. All'indomani della giornata del lutto dei funerali solenni delle vittime marchigiane che si è celebrato ieri ad Ascoli Piceno. Il bilancio delle vittime è di 290, 50 le vittime del bilancio di Arquata del Tronto. Con le sue frazioni in mattinata messe del Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni d'Ercole, nelle tendopoli di Pescara e Arquata del Tronto. Intanto il Papa durante l'Angelus ha fatto sapere che si recherà presto nelle zone colpite dal terremoto. Nell'emergenza a fare la differenza è stata, ed è tuttora, la grande umanità, quella di nonna Vitaliana, tra le tante storie che abbiamo raccontato, che abbracciando a sé, che tenendo stretti a sé i nipoti sotto il letto li ha salvati a Pescara del Tronto, aiutando i soccorritori nelle fasi più difficili e quella poi l'umanità dei vigili del fuoco che vogliono onorare una promessa. Sentiamo la testimonianza raccolta da Linda Cittadini. Vero Angelo Cussodi, ma bravissima perché ci ha tenuto la mano fino alla fine, segnalandoci con la forza che ci dava quando aveva momenti in cui non ce la faceva più e soprattutto mentre cercavamo di liberare il piede che era bloccato tra il materasso, il letto e i detriti, come cercavamo di spostarla aveva dei dolori e in base alla stretta della mano capivamo quando resisteva e potevamo andare avanti, ha resistito fino alla fine, è uscita con un sorriso che non era dovuto al fatto di essere fuori ma soprattutto che i bambini erano andati, quindi il vero Angelo Cussodi è stata lei al di là di chi. Bambini, bravissimi dal canto loro, sono rimasti tranquilli, hanno risposto alle nostre sollecitazioni, l'abbiamo fatti parlare in continuazione, gli abbiamo promesso il giretto sul camion appena uscivano da lì, che li avremmo portati in caserma se volevano fare i vigili del fuoco, si sono sentiti subito nel ruolo, tant'è che poveri piccolini, poi gli abbiamo detto, se siete i vigili del fuoco ci dovete aiutare, hanno iniziato a fare qualche sassetto anche loro. Necessario un piano nazionale con modalità di incentivo ai privati, tra vari esempi quello della Turchia dove le imprese che ricostruiscono hanno diritto all'aumento di volumetria a costo zero per lo Stato e per i cittadini o più in generale un aiuto a chi segue processi di adeguamento sismico per la propria abitazione a proposta degli ingegneri della provincia di Ancona. Vediamo. Quando invece riguarda il pubblico, è stato fatto qualcosa in più nel corso degli ultimi anni, è stata fatta una valutazione sulla vulnerabilità delle strutture cosiddette strategiche e quindi parecchi interventi, soprattutto negli edifici scolastici, nelle sedi istituzionali, forse siamo arrivati a qualcosa di migliore, ma sicuramente sul privato ancora siamo indietro. Ecco, come si può fare per quanto riguarda un privato che volesse avere una valutazione della propria abitazione a capire in che Stato si trova rispetto all'adeguamento o miglioramento sismico? Ma già conoscere per il privato qual è la zona in cui si trova a vivere, quindi parlo proprio come ambito territoriale, dà al privato conoscenza del grado di sismicità. Noi parliamo delle nostre zone, per esempio siamo in una zona ad alta sismicità e il cittadino ormai dovrebbe esserne ben cosciente. Per il resto bisogna che ci si rivolga a tecnici specializzati, a tecnici esperti. Quindi guardando avanti bisognerebbe partire da subito, perlomeno per i privati? Sì, forse saremmo dovuti già partire. Io credo che anche sulla scorta dell'esperienza di questi giorni sarebbe opportuno proprio un piano nazionale che avvii una serie di interventi sulle strutture supportati in qualche maniera dallo Stato, dal Governo con degli incentivi, con delle forme che possano mettere in condizione di intervenire anche quei cittadini che magari non hanno le risorse economiche necessarie perché anche quelli purtroppo debbono trovare la giusta modalità di intervento per essere al sicuro. Abbandoniamo per un attimo la pagina legata al terremoto. Ovviamente daremo anche aggiornamenti su queste scosse che stanno continuando. Passiamo alla cronaca che accade sulla pista da motocross. La notizia la trovate anche sul nostro sito internet tvmarche.it ferito gravemente un pilota di soli 16 anni. Il ragazzino era arrivato in mattinata con la famiglia quando si è verificato il grave incidente. È venuto a Cingoli, appunto al crossodromo. Il ferito residente a Fiuminata è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a chiamare soccorsi un altro pilota che era a pochi metri dal tratto di pista dove si è verificato l'incidente. Poi sono accorsi altri piloti e alcune persone che stavano assistendo alle performance dei motociclisti. La pista era aperta solo per gli allenamenti e non era in corso alcuna gara ufficiale. Un altro grave incidente è avvenuto nella notte sulla statale adriatica Pesaro all'altezza della rotatoria di Colombarone attorno alle 4 si sono schiantate per cause da accertare un'auto con a bordo tre giovani e una moto con a bordo una coppia marito e moglie. Entrambe i quarantenni ora sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Cambiamo pagina, andiamo a Macerata dalle 8 alle 20 oggi in provincia le elezioni per il nuovo presidente dell'ente di secondo livello. Non votano direttamente i cittadini ma sindaci e consiglieri comunali in due a sfidarsi per la poltrona. l'uscente Antonio Pettinari e il sindaco di Colmurano, Ornella Formica. Domani mattina a partire dalle 9 lo spoglio. Cambiamo pagina nuovamente con gli spettacoli a partire dal Festival del Dialetto di Varano. Ieri terza serata iniziative per le popolazioni colpite dal sisma. Terza serata è successo di pubblico al Festival del Dialetto di Varano che ha annullato le manifestazioni musicali in segno di lutto per le popolazioni di Marche e Lazio terremotate. Sul palco lo spettacolo proposto dalla compagnia Il Sipario di Esi con la commedia Doma Famo Sciopero. Ci sono state anche le ultime premiazioni del concorso letterario per la poesia comica primo classificato Mario Maurizzi di Montegiorgio menzione d'onore a Giancarlo Socci di Castelferretti per la poesia degli affetti prima Mariella Scarponi di Polverigi menzione d'onore per Paolo Borsoni di Ancona. Questa sera sarà la volta della compagnia La piccola ribalta di Pesaro che presenterà la commedia alle 17 presso la società San Venanzio presentazione del saggio storico Ancona Natale di Guerra 1914-1918 di Enzo Monzu inserito nel volume celebrativo del festival. Ricordiamo che il comitato organizzatore manifestazioni varanesi ha deciso due iniziative sempre a favore delle popolazioni terremotate. Da domani sera il costo della cena sarà aumentato di un euro per chi vorrà contribuire a destinare appunto in beneficenza sempre domani e mercoledì sera in occasione del fatto che il menù della cena prevede gli spaghetti alla matriciana lo stesso comitato devolverà ai terremotati una percentuale dell'incasso. A proposito di spettacoli slitta per problemi di carattere personale dei musicisti lo spettacolo di Farruco del ballerino Farruco Por un Suegno e Dream previsto questa sera alla Corte della Mole ad Ancona nell'ambito del Festival Adriatico Mediterraneo lo spettacolo del ballerino di Flamenco si terrà domenica 4 settembre a partire dalle 22 al termine dello spettacolo pirotecnico per la festa del mare restano validi i biglietti già acquistati. A proposito di spettacoli migliori performance degli spettacoli del più noto Cirque du Soleil in due date ad Ascoli e ad Ancona a partire dal 30 settembre. Abbiamo messo insieme uno spettacolo che è veramente unico nel senso che abbiamo pensato un gran galà abbiamo messo insieme 22 artisti che sono il top provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e non solo abbiamo inserito anche due giovani vincitori delle medaglie d'oro e d'argento del Cirque du Demain che è il più importante festival delle nuove promesse ci siamo impegnati per realizzare uno show ispirato vagamente alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie il maestro Gonespolo ne ha disegnato le immagini e le scenografie le musiche sono musiche originali create dalla società Femme Piagge abbiamo privilegiato il fatto di avere e di mettere in evidenza le attività le performance degli artisti badando un po' meno a Fronzoli Chi è Alice in questo spettacolo? In questo spettacolo Alice è inizialmente una ragazza comune come tutte le altre che inizia patente viene trasportata grazie a diciamo il nostro cappellaio matto in un mondo di sogni nel quale fa un viaggio attraverso il quale riesce a incontrare le diverse qualità dell'uomo perché il circo moderno è proprio questo che mette in atto il diciamo la dimostrare persone che sfidano ogni legge di gravità e che quindi fanno cose straordinarie e incredibili per chi è Ancona? Ancona perché prima di tutto è una città molto importante del capoluogo di regione delle Marche ed è grazie all'assessore Marasca e al comune una città che ci ha aiutato e ci ha permesso di venire a fare lo spettacolo qua noi siamo uno spettacolo itinerante debutteremo a Riccione a fine settembre poi saremo ad Ancona poi ad Ascoli Piceno poi a Chieti Viterbo e infine Piacenza viviamo con la pagina sportiva un pari per la formazione di Brini per l'Ancona all'esordio contro il Mantova Andrea Fiano un'ora sola di allenamento con i suoi nuovi compagni eppure un gol che regala il primo punto del campionato è Falussamb l'eroe dell'Ancona nell'esordio contro il Mantova in pieno recupero il senegalese arrivato venerdì da Siracusa ha salvato i biancorossi che altrimenti sarebbero incappati in un K.O. deludente il colpo di testa del numero 20 Dorico non può però nascondere i problemi di una squadra incompleta e troppo leggera in attacco Brini ha fatto con quello che ha potuto Voltan finto 9 Bariti De Silvestro e Forgax alle sue spalle e ancora a calcio d'agosto sebbene in palio ci siano i primi punti della stagione squadre non rodate indietro di condizione il primo tempo si contraddistingue per gli sbadigli il Mantova si fa vedere dalle parti di Rossini in un paio di circostanze al 23esimo ci prova Zammarini con una conclusione che termina alta sopra la traversa al 31esimo il portiere biancorosso è attento a ribattere una velenosa punizione di Caridi da sinistra in avanti l'Ancona è impalpabile eppure poco precisa in fase di ripartenza arma sulla quale si è impostato il piano partita nella ripresa i 12 però partono meglio al 6 incursione di battaglia che però calcia debolmente di sinistro in diagonale sprecando una bella azione personale poi sono i virgiliani ad alzare i ritmi e a creare palle gol al 21esimo Caridi spreca da favorevolissima posizione due minuti più tardi Marchi sfonda centralmente e calcia dal limite sinistro sul fondo sono le prove generali del vantaggio che arriva al 26esimo Caridi lavora un pallone dalla sinistra e lo crossa in area dove Marchi sveta più in alto di Kostadinovic e batte Rossini non completamente esente da colpe Brini prova a cambiare i suoi e dopo aver inserito Samb manda in campo pure Montagnoli e Veloci al 42esimo Voltan conclude alto un passo dentro l'area ma quando sembrava che il Mantua potesse concretizzare il blitz ecco l'angolo e la testa color rame di Samb inzuccata e 1-1 esplode il Delconero eppure la panchina l'Ancona si salva ma adesso c'è solo il mercato come cura per la rosa di Brini Nel nostro ultimo servizio qui si chiude questa edizione di ATG Marche a voi grazie di averci seguito vi ricordiamo come sempre che notizie video li trovate sul nostro sito internet etvmarche.it buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti